Musica 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 Partiamo da una bottiglierina Ok La decoriamo con il botton kimono Perfetto Questa ha un'apertura nel collo Facile da si calza sul collo della bottiglierina E' una molto semplice Poi ci tira davanti Ci sostriamo Musica Gli diamo sulla schiena Ci sono diverse posizioni Per riformare Ovi Ovi Anzi Ho inventato Molto bello Grazie Molto bello Sa che? Dove stiamo? Come dice la spada? Bellissimo la spada Ma si apre anche Fantastico Particolare questo Matipolo Così Bellissimo Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti